Otto giornate al termine ed il Cesena è sceso in campo a Pisa. La formazione dei bianconeri, quest'oggi in tenuta completamente gialla, è cambiata rispetto alle previsioni. Gioca infatti Panico, c'è anche Ciano in campo e c'è Cocco, dunque più un 4-3-3 che un 3-5-2. Si comincia con il Pisa che diventa pericoloso dopo la conclusione di Ciano e la ribattuta di Cocco. È solo una fiammata che si conclude con questa splendida parata da parte di Agliardi. Poi sale in cattedra il Cesena, la verticalizzazione di Ciano per Panico. Il palonetto è lì servito ma il portiere del Pisa riesce a ribattere. Si replica nel secondo tempo ancora pallonetto di Panico che questa volta si spegne sul palo ma il gol è lì vicino. Garitano per Panico, in mezzo Ciano, la palla carambola sul palo e se ne va in rete. È l'1-0 dei bianconeri, la festa di Cocco, di Ciano, di Panico e di Garitano, i tre ultimi protagonisti dell'azione che ha portato il vantaggio. Il Pisa da quel momento si spegne, ancora il Cesena che ci prova con un'altra conclusione millimetrica da parte di Cocco. Finisce col punteggio di 1-0, il Cesena sale a quota 39 a 7 partite dalla fine. Davvero si può cominciare a sperare nella salvezza.